Ieri sera l'inaugurazione è partecipata e si prosegue fino al 1 maggio. A Villa d'Ossola ha aperto i battenti la fabbrica di carta, ospite l'assessore regionale alla cultura Antonella Parigi. Con lei il sindaco Bartolucci e il presidente del VCO Costa. La fabbrica di carta, salone degli autori ed editori del verbano Cusi-Ossola, ha come sempre tante storie da raccontare. Quest'anno in particolare saranno molto visive, legate alle immagini. È infatti obiettivo libri il tema di questa edizione 2017, la numero 20. In programma oltre 50 presentazioni di libri, diverse novità editoriali, mostre fotografiche. Quattro le esposizioni, quelle organizzate da Cinefoto di Domodossola e Fotoclub Verbania, quella di Fabrizio Marta, blogger con il suo progetto Rotex, e ancora la mostra legata al concorso fotografico. Trenta le istantanee esposte, quelle che hanno ricevuto le menzioni speciali, e ci sono anche i vincitori che restano al momento top secret. Buona la partecipazione al concorso, che ha visto 160 foto giunte non solo dal territorio locale. Da segnalare le serate di lettura con i ragazzi dell'Uceo Spezia di Domodossola, un bel momento che vede protagonisti, giovani e libri. Il tutto accanto naturalmente alla possibilità di toccare con mano i volumi, sfogliarli e acquistarli. Nel corso della serata inaugurale, tra musica e scorci di territorio, la performance VCO Inspiration, con immagini a cura di Susi Mezzanotte e con le musiche di Roberto Bassa e Davide Besana.